richieste vi faccio vedere come si è avviato il mio laghetto ovviamente vedete la ok vi faccio vedere i pesci come sono cresciuti poi vi lascio sopra un link che potete vedere quando è stato allestito anche le dimensioni dei pesci e e e e e e e e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.